Ed eccoci siamo ritornati, buona domenica a tutti voi e non può mancare anche all'appuntamento di oggi il nostro carissimo Don Pasquale Pio. Bentrovato Don. Bentrovato a te, bentrovato a tutti e buona domenica. Grazie, grazie, come sempre. Come sono andate le feste ormai finite? Abbastanza bene, certo sono state un po' insolite per tutta la situazione che viviamo, però sono state belle. È nato Gesù e quindi questo ci basta per fare in modo che ogni Natale sia bello. È vero, è nato Gesù e facciamo un salto di 30 anni circa perché Gesù lo ritroviamo anche in riva ad un fiume. Questa domenica sì, è la domenica del battesimo di Gesù. Non è vero fondamentalmente che l'Epifania, tutte le feste si porta via, perché comunque il tempo di Natale per noi cristiani prosegue fino alla festa del battesimo di Gesù, in cui anche noi ricordiamo le radici della nostra vita cristiana. Col battesimo la novità, una forte novità è entrata nella nostra vita, perché riceviamo in dono la fede, che non è mai qualcosa di concettuale o qualcosa di astratto e di lontano, ma è vivere in profondità una relazione nuova con il Signore e con gli altri, e avere occhi nuovi. In fondo far vedere i ciechi è il più grande miracolo, penso che Gesù faccia nel Vangelo, non è tanto risuscitare i morti, quanto ridare la vista ai ciechi. E questo ci dà il battesimo, è il dono perfetto battesimale, che è un nuovo inizio, è l'ingresso in una storia nuova, emancipata finalmente dall'odio e dalla violenza, perché noi iniziamo a vivere tutto in comunione con Gesù. Quindi il battesimo è questa chance, questa possibilità di nascere di nuovo, quando viviamo tutto in comunione con Lui. Ecco perché non è soltanto un rito, per noi un ricordo, ma deve essere la chiave di volta del nostro vivere da cristiani, da perfetti cristiani. Questo poi sostanzialmente vuole dire questa giornata per noi. Il battesimo è proprio questo che hai detto tu, essere sentirci figli amati. In fondo quello che il padre dice a Gesù nel momento del suo battesimo, ecco questo è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. In fondo Dio lo rivolge a ciascuno di noi, anche noi siamo figli amati. E questa è la scoperta grande del battesimo. Quando due persone sono innamorate, si appartengono a vicenda. Ed è bello perché quando a una ragazza parli del suo innamorato o della sua innamorata, si vede riflesso nei suoi occhi il volto dell'altro. Quindi il battesimo è questa grande attestazione di amore del padre nei nostri confronti. Dovremmo vivere un po' più da figli, cioè un po' più da innamorati di Dio per rivoluzionare le cose, per dare un nuovo modo di vivere agli altri, per fare in modo che anche la terra, la nostra terra viva il suo battesimo. Ecco perché poi ci trasfiguriamo con l'amore, no? Con questo sentimento che proviamo nei confronti dell'altro o dell'altra. Don Pasquale cambia la luce, cambia lo sguardo, cambia tutto con l'amore. Anche se stiamo vivendo poi in una situazione, in un momento difficile, comune per tutti, dovremmo avere tutti poi, qualcuno lo suggeriva, un piano B. Tendenzialmente ci sentiamo un po' onnipotenti, niente ci può capitare di strano, niente ci può capitare che non si possa poi combattere. In realtà ci siamo visti tutti un po' sprovvisti, sia di armi, ma non quelle materiali ovviamente, sia di atteggiamento. Come potrebbe essere un piano B da tenere sempre di riserva in queste situazioni così complicate come quelle che stanno avvenendo da un anno a questa parte ormai? Forse il nostro delirio un po' di onnipotenza viene dal fatto che tendiamo sempre a controllare tutto. C'è una volontà di fondo che ci impedisce di saper affrontare correttamente le novità che ci si presentano, che si presentano alla nostra porta, alla nostra storia. Anche questo tempo rappresenta una novità per molti, nessuno l'ha vissuto in precedenza. Quindi un po' ci sentiamo impreparati ad affrontare quanto ci aspetterà anche in questi mesi che ci stanno davanti. Quindi il lato positivo di questa esperienza che viviamo è il fatto che ci sta un po' decostruendo, stiamo un po' smontando questa nostra pretesa di onnipotenza che viene meno, cade, va in rovina di fronte ad un piccolo virus che ci mette in agitazione, che ci mette in movimento, che ci fa malare e che ci fa scoprire e toccare con mano la nostra fragilità. Non siamo onnipotenti, ma forse è anche meglio così. Non possiamo sistemare tutte le situazioni, c'è bisogno di avere fede in qualcun altro. L'abbiamo letto un po' di giorni fa nella solennità dell'Epifania. I magi si lasciano guidare dal cielo, hanno i piedi ben fissi a terra, camminano sulle loro strade, però si lasciano portare dalla stella, guardando al Signore. Dovremmo fare anche noi la stessa cosa, perché la nostra pretesa di onnipotenza è la più grande smentita della nostra fede nel Signore. Anche perché Papa Francesco lo sottolineava, adorare Dio è scoprirlo nascosto nelle situazioni più semplici e noi le situazioni più semplici le viviamo ogni giorno praticamente. A proposito di piano B, abbiamo recuperato un caffè di Paolo Pugni, ascoltiamo la sua riflessione. Buongiorno, buongiorno la telecamera lì e buon caffè. Abbiamo un piano B? La nostra vita ha un piano B? Credo che tutti ce lo siamo dovuti chiedere in questi mesi, quando dal 24 febbraio è cambiata drammaticamente la nostra vita in una cascata che fino all'8 marzo ci ha tenuto sospesi e poi ci ha completamente bloccati. Avevamo un piano B? Ce l'avevano le nostre imprese? Ce l'aveva il nostro lavoro? Ce l'avevano le nostre famiglie? Ce l'avevano le nostre vite? Perché c'è sempre bisogno di un piano B. Abbiamo forse vissuto troppo convinti di poter controllare il mondo, di poter controllare il destino, di poter tenere le mani strette sul nostro futuro per decidere noi qualunque cosa e abbiamo vissuto dentro questa convinzione con così tanto autoconvincimento da dimenticare che c'è sempre bisogno di un piano B, che è non un paracadute, anche quello, ma soprattutto la tranquillità di sapere che non possiamo rendere nero o bianco un solo capello, che non possiamo aggiungerne o toglierne, che non possiamo aggiungere o togliere un secondo la nostra vita e che dobbiamo in qualche modo navigare su un mare che può cambiare improvvisamente le sue condizioni senza che noi ce lo aspettiamo, lo sappiamo o possiamo far nulla. Quello a cui siamo stati resi, a cui siamo stati messi in mano, quello di cui ci siamo convinti, quello di cui ci siamo accorti direi ancora di più, forse convinti non ancora. Ci sono quelle famose cinque fasi dell'accettazione del lutto che sono interessanti da comprendere per capire qual è la nostra reazione a questo covid. Ecco, poi ci torneremo su questo. Ci siamo forse resi conto che veramente il controllo non dipende da noi e che quindi se non abbiamo qualcosa che ci tiene a galla in qualunque condizione, quello che possiamo chiamare appunto il piano B, delle alternative alla nostra vita, la nostra vita veramente può andare a fondo anche se apparentemente continua a galleggiare. Perché spesso non ci rendiamo conto di quali siano le conseguenze di quello che facciamo, le conseguenze delle nostre situazioni che non voglio dire siano conseguenze negative per definizione, ma che ogni decisione ha delle conseguenze. Ad esempio ho visto la sofferenza, una vera sofferenza concreta di molte persone sole che si sono rese conto di cosa vuol dire in questo momento rimanere sole o di molte famiglie numerose, che si sono rese conto di cosa vuol dire avere una famiglia numerosa, di molte persone che si sono ritrovate a vivere insieme e magari non lo desideravano così tanto e si sono rese conto di cosa vuol dire stare insieme. Ecco, forse questa pandemia ci ha fatto riscoprire anche questa dimensione. Buongiorno e buon caffè. Allora, pensavamo di riuscire a controllare tutto, questa è un po' la prerogativa delle mamme anche, vero Don Pasquale? Invece poi non si riesce concretamente praticamente, vogliamo avere tutto sotto controllo, questo capita adesso a chiunque, tu mamma non lo sei, però con tanti figli è a che fare in parola. Beh sì, è una grande tentazione quella di voler dirigere gli altri, come se noi conoscessimo già la strada e la strada è più sicura attraverso cui tutti dobbiamo andare per raggiungere Dio, per raggiungere la salvezza, invece no, ci dobbiamo affidare come dicevo prima, c'è bisogno di andare più in profondità in un discorso di fede che è sempre fiducia, è sempre affidamento, c'è nella radice stessa della parola, se abbiamo tutto calcolato, tutto pronto, tutto sistemato, non c'è spazio per la novità battesimale, ritornando al discorso di prima nella nostra vita, che è un discorso che ci mette sempre in moto, non ci fa mai sentire a posto con la nostra coscienza, ci permette di andare alla ricerca di qualche altro che completi la parte mancante di noi, perché noi siamo mancanti, come dicevo prima non siamo onnipotenti, la società, lo stesso nostro essere presenti in un contesto sociale ci dice che abbiamo bisogno necessariamente di qualche altro che ci aiuti e ci dia ciò che noi invece con le nostre forze non potremmo mai avere, quando siamo ammalati abbiamo bisogno di un medico, quando siamo tristi abbiamo bisogno di qualche amico con cui parlare, quindi è una bella riscoperta quella della nostra interdipendenza gli uni dagli altri, il Papa Francesco ce lo dice sempre e ce l'ha sottolineato specialmente negli ultimi mesi, specialmente quando ripeteva insistentemente che noi siamo tutti sulla stessa barca e come naviganti in quest'unico vascello della storia dobbiamo chiedere aiuto agli altri quando ne abbiamo bisogno, senza paure. È vero, questa cosa che tu hai sottolineato è confermata anche dal fatto che ci siamo resi conto di non poter essere da soli, di non poter stare da soli, anche se durante la prima chiusura, la prima emergenza ci dicevamo tutti tra di noi saremo migliori, quello forse non si è raggiunto con l'obiettivo di essere migliori, però abbiamo capito che da soli non possiamo stare, tu facevi riferimento anche all'ammalato che veramente ha vissuto una situazione di solitudine al massimo. Sì, in fondo penso che una solitudine radicale su questa terra non possa esistere, perché anche quando siamo fisicamente soli comunque il nostro spirito, la nostra mente sono abitati da tanti pensieri, da tanti volti che ci fanno compagnia, quindi penso che la nostra socialità, il senso della nostra socialità sia qualcosa di profondamente innato in noi, anche gli eremiti, coloro che scelgono la vita in solitudine, lontano dal mondo, in fondo non sono mai soli, perché noi viviamo la comunione dei santi, quindi siamo insieme necessariamente, i santi sono appunto i battezzati, così li chiamava San Paolo nel prologo della Lettera ai Romani, non siamo noi i santi, perché abbiamo ricevuto il germe di una vita diversa, la possibilità di vivere non secondo gli schemi umani, ma rivestiti di Cristo, così scrive ancora Paolo nella Lettera ai Galati. Quindi se abbiamo conosciuto Cristo, se ci siamo rivestiti di Lui e delle sue virtù, della sua forza, allora dobbiamo essere in comunione con Lui e con il suo corpo, che è la Chiesa. Ecco, allora a proposito di corpo, non servirà soltanto il vaccino per il corpo, che ovviamente per cui ci stiamo tutti quanti preparando, ma il vaccino per il cuore, non lasciare nessuno da solo, come diceva Papa Francesco. Don Pasquale, noi siamo già in fila per il vaccino, giusto? Lo faremo, lo faremo. Lo faremo, ad averlo. Allora, ti ringraziamo per oggi, io continuerò a parlare soprattutto di ammalati nella seconda parte, perché ritroveremo un amico che ha fatto tanto per essere accanto a chi purtroppo per Covid è morto ed è morto da solo, quindi questa situazione non si deve più ripetere. Ti ringrazio e ci ritroviamo la settimana prossima, sempre a gennaio. Grazie a te, ancora grazie a tutti e l'augurio di una Santa Domenica. Anche a te, grazie.